No, è spawnato un villagero ed è morto immediatamente No ragazzi, no, 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 no Spera, ragazzi Li porto, li porto, porti i napoletani Come? No Ho fatto di tutti Ho fatto carneficina Ho ucciso tutti Ragazzi, il Vesuvio E il Vesuvio in persona Lo butto giù, eh È un evento canonico No, no, no No, no, no No, 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 no Scusate 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 Non potevi farla dentro più lì? In un canale ce l'hai mai introduzione? No No Ormai Ok, non farlo cadere Ma no